Decine di nomine negli enti regionali e non solo, sono quelle che si appresta a fare il consiglio regionale. Con l'avvio della nuova legislatura parte anche l'avvicendamento per una serie di incarichi. In tutto sono oltre 40 le nomine da effettuare, per questo l'ufficio di presidenza, presieduto dal presidente Quintino Pallante, ha appena approvato i relativi avvisi pubblici. Riguardano varie commissioni, come quella per le pari opportunità, o ancora l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli, l'agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, l'azienda speciale Molise Acqua e il Corecom, comitato regionale per le comunicazioni e il consiglio direttivo dell'Iresmo. Altri incarichi da assegnare sono per l'ente parco storico dell'olivo di Venafro, il comitato tecnico consultivo per la cooperazione e lo sviluppo, la commissione tecnica forestale, la consulta per i problemi degli anziani. Gli avvisi pubblici varati da Palazzo Daimmo prevedono che gli interessati facciano pervenire le loro candidature con raccomandata o con consegne a mano negli uffici di via Colitto dalla Presidenza del Consiglio. Il termine scade 30 giorni dopo la pubblicazione degli avvisi sul bollettino ufficiale della Regione. Sempre dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale c'è un'altra novità. L'organismo, con una sola astensione, quella del consigliere 5 Stelle Angelo Primiani, ha approvato la proposta di modifica del regolamento interno dell'Assemblea di Palazzo Daimmo. Le modifiche proposte riguardano i tempi riservati alla discussione in Consiglio, con l'obiettivo di ridurre la loro durata. Stop dunque ai interventi fiume in aula. La proposta di modifica dovrà essere ora vagliata dalla Commissione competente e poi andrà all'esame dell'aula per l'eventuale via libera definitivo.